Si è conclusa in musica ai piedi della chiesa di San Ferdinando la giornata barese di oltre 40 pellegrini molisani. È il frutto del gemellaggio tra la proloco di Santa Croce di Magliano, piccolo comune in provincia di Campobasso, e la proloco del municipio 4 di Bari. Una giornata di scambio culturale e di fede nel nome di San Nicola. E' proprio dalla basilica, infatti, è iniziato il pellegrinaggio del gruppo molisano. Le due proloco si sono gemellate nell'aprile di quest'anno, quindi per noi è un onore ospitarli nel segno di San Nicola. E quindi la prima uscita dei nostri amici di Santa Croce di Magliano, appunto in provincia di Campobasso, l'abbiamo voluto dedicare ad un santo che è ormai famoso e accogliente da tutte le parti del globo terreste. Quindi San Nicola. Come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce dallo spirito di fratellanza che ci unisce. Noi abbiamo raccolto l'invito di Rocco a cuore aperto, siamo stati felicissimi di venire. E alla fine di questa giornata possiamo ritenerci orgogliosi ed onorati di essere stati qui, perché abbiamo incontrato delle persone meravigliose e fantastiche. Una iniziativa che si conclude in musica? Si conclude in musica con il canto tradizionale della Pasquetta, che è un canto che intoniamo la notte del 5 gennaio, un canto augurale che parla della venuta di Cristo e con il quale vogliamo augurare una buona vita e tanta felicità e serenità a tutti gli abitanti della città di Bari. Grazie a tutti.